Il mio punto di vista è semplice, io so la verità e ora ve la svelo, sono due vecchi volponi, Marco e Max si sono messi d'accordo perché c'è un grande difetto nel mondo della superbike, non ha esposizione mediatica, non c'è versi di andare sui giornali, siamo in tre in sala stampa, guarda che sala stampa sguarnita e che brutte facce di anziani e di gente scarsa, la televisione, tranne voi ragazzi, poi il resto non è che sia molto presente, allora dice ragazzi qui bisogna movimentare perché si parla solo di Valentino e Ducati, ci ha fatto due marroni, hanno fatto una gara sola, decine di ore di televisione, fiumi di parole, foto, dice facciamo una finta scazzottata e siamo a posto, basta, mi sembrava un'idea geniale secondo me, andando dietro nel tempo, io già mi ricordo, insomma, episodi di questo tipo, il più bello è stato quella meraviglia di Frankie Kili che andò a cazzottare fitto fitto Carl Fogarty, reo di averlo sbattuto fuori pista a un 250ino ad Assen, però il risultato fu che Fogarty vinse il mondiale e Kili andò alla Suzuki e lo perse, quando invece se lo meritava lui era l'unico italiano, il primo che poteva vincere un mondiale, ragazzi il temperamento è quello che fa la differenza tra il vero campione assoluto e il grande pilota, puoi essere un manico stratosferico come lo era Kili e poi peccare magari di temperamento, bisognerebbe, boh, mi sembra che però uno dei due protagonisti sia non propriamente un giovanetto, nessuno dei due è giovanetto, però, boh, no, in effetti però non mi è piaciuta molto come scenetta così per movimentare, potevano inventarsela meglio, potevano mettersi d'accordo e fare primo e secondo in gara 1 e secondo e prima in gara 2, magari mettendo dietro quello spagnolo rintronato con quella Ducati anziana che ha 18 anni contro moto ufficiale, non lo so, buh, episodio così, il motociclismo è bello, è bello perché ci sono queste cose, allora potrei raccontarvi di quello che succede in America dove nel Supercross se le danno di santa ragione ad ogni gara, ma si cazzottano veri, fitti fitti, non è che fanno gli schiaffettini pipipi, tatatà, si danno delle pacche sul casco fenomenali e poi vanno e pagano i 16-15 mila dollari per le scazzottate e quella un attimino un pochino più, dà più gusto, non so se ora ci sarà questa mania che dopo che succede qualcosa in pista vengono a fare, pensate che meraviglia se succedeva una cosa così in MotoGP dove se fai un sorpassino che passi a 7 centimetri, ah mi ha quasi toccato, capito che sono tutte signorine, ragazzi questa è la Superbike, la Superbike è sempre stata così, Pirovano di scazzottate ne ha fatti a decine, Kili ne ha fatti a decine, Fogarty, si parla di Fogarty, un tipino tranquillo, si trovò un doppiato nel giro buono esattamente come Max e Marco, lo ha sbattuto fuori pista, ha trovato un doppiato e lo ha buttato fuori pista e non contento, mentre questo si ruzzolava, gli fece anche così col dito e questo che si rialzava con la moto sbriciolata fece anche scusi, insomma qui la Superbike è un pochino più tosta per uomini tosti, non male, a me poi se ne parla, oggi almeno siamo su tutti i siti, tutti i giornali, un pochino se ne parla.